terza fase schiena della camicia in cotone con grinze come vedete anche delle cuciture che rendono più difficile la stiratura vanno con questo strumento eccolo qua schiena Essendo un po' alpia devo spostarla in modo da poter esporre tutte le superfici all'assa. Lo strumento è molto maneggevole e allo stesso tempo potente. Ecco fatto, passo all'altro lato, dopodiché maniche e colletto.